L'anno scorso in Sicilia 62 le vite spezzate a causa degli incidenti sul lavoro. Oggi la giornata in memoria delle vittime del dovere istituita dalla CISL, una commemorazione a Palermo, a Villa Trabbia. Sentiamo Laura Pasquini. Lo prevede l'articolo 35 della Costituzione, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Eppure, soltanto l'anno scorso in Sicilia sono state 62 le vite spezzate a causa degli incidenti sul lavoro. 5 a gennaio di quest'anno, in appena un mese. Dati raccapriccianti e elencati nel giorno in memoria delle vittime del dovere istituito dalla CISL. La commemorazione a Villa Trabbia a Palermo per riflettere sul tema della sicurezza. Le leggi ci sono, ma difetta la loro applicazione. E poi, dicono i sindacalisti, c'è una carenza di ispettori del lavoro. Noi non possiamo più pensare che un lavoro precario debba essere un lavoro poco sicuro. In altre parole, significa che noi non possiamo barattare più produzione con minore sicurezza. Noi poi dobbiamo avere la consapevolezza che maggiore formazione significa maggiore consapevolezza del rischio e di conseguenza maggiore sicurezza. Queste che possono sembrare frasi o slogan, oggi rappresenterebbero per molti il modo per non lasciarci le penne. Fondamentale contrastare il fenomeno degli incidenti e delle malattie da lavoro. Formazione e informazione sono quelle che ci aiutano a evitare molti infortuni sul lavoro. Il lavoro non può e non deve essere causa della fine di un'esistenza, come hanno decantato nel recital le attrici Letizia Porcaro e Chiara Cusumano, accompagnate alla chitarra da Tony Greco.